buongiorno a tutti allora oggi vi spiegherò come cambiare una batteria a un orologio è un'operazione molto semplice va bene questo ve lo faccio vedere dopo aver grattato questo gratifici allora iniziamo 19 21 29 32 45 40 39 37 turista 14 31 30 allora in poche parole non abbiamo vinto niente niente va beh questo lo mettiamo a parte allora adesso come potete vedere l'orologio non funziona si gira ma la lancetta dei secondi non va allora l'operazione molto semplice bisogna aprire questo bisogna procurarsi degli attrezzi molto di precisione tipo un cacciavite allora è sufficiente fare leva qua allora qui è momento è allora è sufficiente aprire per accedere alla batteria questo non va bene proviamo con allora è sufficiente questo neanche allora è sufficiente bisogna dare due colpetti così non serve allora dobbiamo stare attenti a non danni allora bisognerebbe colpetti per cercare di aprirlo allora vediamo un momento e si è aperto eccolo qua è sufficiente togliere la batteria con un lavoro di precisione una batteria la batteria va tolta ecco qua allora abbiamo tolto la batteria come potete vedere poi nella prossima video vi farò vedere come ricomporre tutto il telefono per oggi abbiamo finito ciao 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 ciao